Pac, Fulvio Abate, vorrei leggere un semplice, come definirlo, comunicato, personale, a proposito delle elezioni europee imminenti. È arrivato il ricatto del voto utile. Implicitamente ci viene chiesto di votare per il partito di Zigaretti. La nostra risposta. Il Partito Democratico negli ultimi decenni ha sostituito la centralità del diritto al lavoro con gli interessi dell'impresa. Ha dato spazio a nuovi nani, ballerine e cocker nella discoteca beltoniana. Se è così, perché mai dovremmo dare sostegno e ulteriore credito a chi ha desertificato la sinistra? Punto di domanda. Aggiungo ciò che il mio amico Stefano mi ha detto qualche giorno fa. Se non costruisci case popolari da 30 anni, come puoi aspettare che ti votino? Semplicemente questo. Quindi io vorrei essere garbato e squisito e non arrivare all'insulto. E questo lo dico perché avendo un'età e una lunga storia, avendo militato nel Partito Comunista Italiano, dove il ricatto del voto utile era pane quotidiano, nella convinzione che i voti fossero di proprietà esclusiva suoi, beh, semplicemente questo. Non aggiungo altro. Personalmente ho già detto cosa voterò. Voterò la sinistra, pur provando altrettanto orrore per alcune delle firme di quel cartello. Ma questo è un dettaglio. Basta, Fulvio Abate. Oggi cos'è? 23 maggio 2019. Buona giornata a tutti.